E' sempre la solita storia, dentro non si sanno organizzare. Caos e disagi questa mattina all'esterno degli uffici della Cassa Marittima in via Cesare Battisti a Torre del Greco. Marittimi in fila per ore per accedere all'interno ed effettuare le visite mediche e ogni altra pratica. Al porto ti mandano qua, qua ti mandano a Napoli, da Napoli vieni qua, è sempre la stessa storia. Ma c'è qualche scadenza particolare in questi giorni perché c'è tutta questa foglia? No, è sempre così. A Torre del Greco? Non ci sono i dottori. Qual è il problema? Ci mancano i dottori purtroppo, la struttura è grande e ci sono tre dottori e noi dobbiamo aspettare qua fuori qua, penso che è un disservizio. Ma tutti i giorni è così? Sì, tutti i giorni. Un disservizio legato, come spiegano i microfoni di TV City, i lavoratori del mare, alla carenza di personale. Voi dovete fare le visite? Sì, le visite. Io sono con i ginocchi malati, non posso camminare e sto aspettando la stanza, ma ci sono dalle 9 ai meno 20 qua. Quindi pure se si viene alle 7 facciamo la fila in tutte le situazioni che dicono loro, ma la gente è tanta. Ma da quando ha aperto è sempre stato così? Sempre è stato così. Noi poi danno la colpa ai marittimi, noi abbiamo rispettato tutti e tutti, rispettiamo tutti e tutti. È l'interno che non funziona, sono loro che non si stanno organizzando. Che tipo di pratiche fanno? Fanno le pratiche per la biennale e per le visite pre-imbariche. E poi alle 10 incominciano a fare i prolungamenti, quello che devono avere i giorni o quello che deve chiudere la pratica, queste cose qua. Che cos'è che non va? Ci sono pochi medici e poi tutto ci va a dare, tre persone alla volta ci fanno entrare. Quindi l'utenza è vasta e il personale è poco? L'utenza è vasta e il personale è poco. Voi cosa chiedete? Di mettere più personale, di fare entrare la gente come si deve, con i numeri, cose e tutto. Non come stanno facendo loro, ci ammocchiano tutti quanti qui dentro qua. La gente qua da quanto tempo aspetta? Dalle 7 e mezza. Tutti i giorni è così? E per adesso penso di sì, però non lamentiamoci perché c'è un servizio che durerà per poco secondo me. Ma al giorno quante persone riescono a smaltire? Qua ci sono delle liste. Smaltiamo più di 200-300 persone. Smaltiscono loro. Veniamo poi paragonati a un lavoratore che lavora a terra e va a casa a dormire la sera con i figli? Un marito invece è 24 su 24.